La Soget di nuovo al centro delle polemiche, la società di gestione Entrate Tributi di origine puiese che dal 2002 si occupa del comune di Pescara, diventa protagonista di un'interrogazione a risposta scritta firmata dal Movimento 5 Stelle. Al centro della polemica i crediti inesigibili accumulati dalla società che hanno spinto il comune di Pescara a dichiarare il dissesto. Si parla di 36 milioni di euro. Se un'amministrazione comunale dichiara e attesta l'irregolarità delle procedure di una società, di un incaricato di pubblico servizio tutte le altre amministrazioni possono risolvere il contratto con la stessa società e questo è avvenuto. Deve procedere immediatamente alla revoca del contratto con la Soget, riandare sul mercato, scegliere con i requisiti di trasparenza, economicità ed efficienza un nuovo incaricato di pubblico servizio. A maggior ragione se stiamo parlando di 36 milioni di euro inesigibili, di un malloppo di denaro pubblico che ha condizionato gravemente le casse dell'Ende e quindi le tasche dei cittadini pescaresi. È una situazione allarmante e preoccupante. Tra le questioni che oggi spingono i grillini a produrre l'interrogazione destinata al sindaco Marco Alessandrini la questione è prorogazio. Il contratto con la società, nonostante l'accumulo di crediti totalizzato, non è mai stato interrotto né si è proceduto a fare un nuovo bando al termine di ogni mandato. Chiedono di conoscerne il motivo. La situazione è molto nebulosa. Sembrerebbe addirittura che stiamo in regime di prorogazio. Se questa società continua a gestire il regime di prorogazio, che ci sia stata una proroga, sembrerebbe perché non ci hanno fatto vedere ancora le carte. Quindi noi vogliamo anche ricostruire meglio la vicenda. Capire perché, se stiamo in regime di prorogazio, e ripeto non lo sappiamo ancora, perché non hanno fatto una nuova gara, un nuovo bando alla scadenza naturale del precedente bando. Perché? Perché i regimi di prorogazio, le proroghe a noi ci suonano male.